La mia nomina, la mia elezione al Consiglio Nazionale ha in qualche modo avviato un percorso rivolto alle pari opportunità scatenato dal fatto che ero l'unica donna all'interno di un Consiglio composto di 15 persone. Questo ovviamente è stato lo spunto per rendersi conto che c'era bisogno di dare una sferzata di energia, rispolverare un tema che magari tempo addietro aveva avuto già dei risvolti, già dei grandi successi dal punto di vista dell'evoluzione femminile. In questo caso si parla di professione e si voleva riuscire ad avviare un progetto che avesse un'attenzione particolare alle colleghe. Diciamo che è stata istituita innanzitutto una scatola aperta dove all'interno si attivano vari ordini, varie colleghe, vari presidenti e affrontano vari temi attinenti alla cassa previdenziale, alle difficoltà di inserimento femminile, alla maternità, alla conciliazione al lavoro-famiglia e affrontando questi temi si cerca di risolvere delle soluzioni che siano immediate, che abbiano delle risposte concrete e la raccolta di queste idee venga in qualche modo portata e formulata al governo.